LDS Carlo Musa, in collaborazione con il tecnico Federico Guidi, è alla ricerca di profili importanti che possano completare la rosa, fare i puntati sugli esterni offensivi e su una punta centrale in caso di partenza di Cianci. Una delle priorità è cercare di rinforzare la batteria degli esterni offensivi con elementi che possano adattarsi al 4-3-3. Iniziano a circolare nomi anche importanti con esperienza di C, come lo svincolato Manuele Melotti, 24 anni, laterale destro, ex Novara, e poi altri due profili che fanno gol alla dirigenza bianco-rossa. Uno di questi è Francesco Golfo, classe 84, di proprietà del Parma. Golfo è reduce dalla stagione trascorsa tra Juve Stabia e Catania e può essere utilizzato su entrambe le fasce. Altra idea per l'out destro d'attacco è Enrico Piovanello, 21 anni, sotto contratto con il Padova fino al 2023. C'è poi un discorso aperto con Lascoli, che è proprietario del cartellino di Riccardo Matos, 21enne esterno portoghese che guidi allenato alla Casertana la scorsa stagione. Per la punta centrale, in caso di partenza di Cianci, è stato sondato di nuovo Emanuele Santagnello, 31 anni, in uscita da Lavellino, ed è sotto osservazione anche Gennaro Borrelli, classe 2000, dal Pescara. Sul fronte partenze manca solo l'ufficialità per Salime Diachite alla Ternana, mentre ufficiale il centrocampista Simone Santoro al Perugia. Due elementi che hanno permesso di fare plus valenze nelle casse biancorosse. Resta da sciogliere il nodo Cianci, la trattativa con il Catanzaro sembra essersi interrotta, perché c'è distanza tra la richiesta del presidente Franco Iachini e l'offerta delle club calabrese, ma non è da escludere che la trattativa possa riaprirsi nelle prossime ore. Tra i pali, con l'arrivo del portiere Andrea Tozzo, 28 anni dalla Ternana, nell'operazione di Achite, l'altro numero uno, Mattia Valentini, è chiamato ad una scelta, decidere di rimanere come secondo o giocarsi il posto da titolare o andare altrove. Intanto la preparazione per il campionato del Diavolo, dopo la domenica di riposo, riparte oggi con una seduta di allenamento pomeridiana.